come le figurine che si scambiano quando si torna a scuola ci scambiamo anche le letture, gli ascolti, le visioni cosa ho letto nella pausa estiva può interessare molto poco a molti ma sicuramente una delle cose più interessanti che mi sono passate sotto gli occhi è proprio questo, gli ultimi giorni di luce di Billy Scott edito Feltrinelli Comics, è stato promosso, comunque proposto alla lettura del sottoscritto proprio perché l'autrice Zoe Thorogood esordisce con questo libro vado recentemente sull'Instagram e trovo una sua foto distrutta, devastata dove annuncia che aveva appena consegnato le tavole, il lavoro della sua autobiografia quindi notizia recentissima quindi vado a riprendere questo volume che appunto era pronto per essere letto in libreria gli ultimi giorni di luce di Billy Scott leggo proprio la quarta perché è molto precisa, molto sintetica cosa che io sono poco Billy Scott è un artista tra pochi mesi esporrà 10 quadri della sua prima mostra tra due settimane diventerà cieca le resta solo una manciata di giorni per realizzare il sogno della sua vita e continuare a darle un significato il gancio, la storia, esattamente questa che vi ho appena letto in queste poche righe molto essenziale, molto stringato il risultato è effettivamente un fumetto che della storia in sé per sé non si poggia puntamente sulla storia anche perché appunto è esattamente quello che vedrete con un finale che non vi svelo il bello e il centro è proprio l'atmosfera il come Zoe Thorogood realizza, racconta, disegna, inquadra o anche non inquadra, non definisce questa vicenda che effettivamente ha del thriller ma nella realizzazione ha quasi il lato drammatico diventa più onirico o comunque quasi psichedelico il volume è molto bello si fa leggere con il suo tempo prendetevi del tempo perché sennò vi scivola tra le mani questa storia, questo racconto devo dire che se dal punto di vista del disegno il Zoe Thorogood è sicuramente molto promettente dal punto di vista dei colori o comunque della fattura c'è stato forse un po' di fretta oppure qualcuno ha, non dico frainteso ma non ha centrato pienamente lo spirito del lavoro e dell'artista perché appunto si vede in germe l'idea si apprezzano le direzioni però al 100% non conquista pienamente però volete assolutamente sapere che cosa è successo per quale motivo tra pochi giorni in due settimane l'attrice Billy Scott, la protagonista di questo fumetto perderà la vista che cosa farà nel mentre come farà a esporre i suoi dieci quadri alla sua prima mostra cosa succederà questo è esattamente ciò che troverete negli ultimi giorni di Billy Scott promosso a, non a pieni voti però sicuramente considerato per una bella lettura una bella lettura appunto promettente per quello che sarà in futuro quello che ci regalerà l'autrice Zoe Thorogood quindi se volete Feltrinelli Comics ha realizzato appunto e ha pubblicato Gli ultimi giorni di Billy Scott fumetto appunto appena consigliato da letture metropolitane su radio elettrica andiamo avanti Grazie a tutti